In due casi, a Trevignano e Pederoba, il ponteggio era completamente fuori norma, montato senza criteri. A Maser, in un altro cantiere, non c'erano nemmeno le idonee coperture contro il rischio di cadere nel vuoto. Sempre nell'alto Trevigiano alcuni operai sono stati trovati su un tetto, sprovvisti di dispositivi di protezione individuale addosso. L'assenza o la carenza di caschi, moschettoni, linee vita è ancora una piaga. Le principali infrazioni che abbiamo riscontrato sono state proprio il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di tutte quelle protezioni che appunto occorrono proprio per consentire ai lavoratori di lavorare in sicurezza nei cantieri, quindi spesso in edifici in costruzione ed evitare ovviamente cadute che possono anche rivelarsi fatali. 16 le ditte sanzionate in tutta la marca dai carabinieri del nucleo tutela lavoro con multe complessive per oltre 170 mila euro. In un'azienda di Castelfranco per esempio, oltre al piano di sicurezza non aggiornato, è stato anche trovato un lavoratore extracomunitario completamente in nero, copione simile in un'impresa logistica di Casale sul Sile. Abbiamo anche trovato, abbiamo riscontrato la presenza di lavoratori in nero, quindi lavoratori non regolari. Bene dire che queste attività comportano poi una sospensione nell'attività delle aziende sino al ripristino proprio di quelle condizioni di sicurezza che consentono ai lavoratori di appunto lavorare e operare nel rispetto delle norme. Ed è proprio sul rispetto delle regole e sul corretto funzionamento di un macchinario che verte il procedimento a carico dei titolari dell'azienda di Pieve di Soligo dove nel novembre scorso è morta Nila Grisciai, la 26enne di Miane Caporeparto, rimasta schiacciata da un'imballatrice. Agli atti è stato acquisito un video shock. Con gli ultimi istanti di vita della giovane si deve capire se sia stato un guasto meccanico o un errore umano. Il macchinario intanto è stato dissequestrato. Sicurezza sul lavoro che più in generale resta un fronte caldissimo. In una provincia come la nostra che a livello economico si pone ai primi, ai vertici in ambito nazionale è giusto e corretto ovviamente che questi controlli vengano fatti proprio per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e garantire anche una giusta concorrenza tra le aziende.